Vogliamo parlare un altro interne ascedere? Ma no! Ma no! Sì o no? Decidi tu. Questo è prima dell'impatto. No, io sì. Soltanto che qui mi danneggio. Però va bene. Nel senso che per esempio ho fatto da poco una trasmissione televisiva e mi hanno detto, ah, abbiamo visto gli autori che ti chiamano e ci vuoi fare un pezzo spiritoso sapendo che avevo fatto il cabaret. E hanno visto gli scherzi e hanno detto, ah, facciamo quello lì. No, quello non si può fare. No, quello non si può fare. Cioè non si può fare niente nelle ascelle perché erano tutti sketch sulle, diciamo, le secrezioni del corpo umano. Ecco, diciamo, per dire una parola e quindi inenarrabili. Per fortuna non... Spero che non sia rimasta quella ascella. No, però era un gruppo che ci siamo divertiti da morire. Abbiamo fatto anche dei teatri importanti. Per esempio, a Napoli c'era il San Carduccio che era un teatro dove hanno riportato anche la Smorfia e anche Benigni e noi appunto le ascelle siamo andati a fare... Era teatro di strada all'inizio. Cioè eravamo dei supporter di atletica leggera perché, come siete da noi fisici, sono stato... Si capisci, no? Campioncino di atletica leggera di Pius Palermo. E quindi, con degli amici atleti, ex atleti ormai, andavamo in giro a vedere i mondiali di atletica leggera a Helsinki o a Stoccarda, agli europei. Insomma, andavamo a fare i supporter del nazionale italiano. soprattutto perché poi l'atletica ha questo di straordinario che uno spettatore di atletica certo è contento se il medagliere dell'Italia si arricchisce, eccetera. Però veramente vai a vedere l'atleta. Cioè vai a vedere di qualunque nazione sia il bambino. È proprio un piacere vedere l'uomo che lotta non contro gli altri ma contro i propri limiti. c'è qualcosa di veramente eccezionale nella atletica leggera. Quindi, eravamo tutti molto motivati ma non avevamo soldi. Quindi, per andare a fare questi viaggi facevamo, non so se c'è ancora, l'Inter Rail e ci spostavamo di città in città per raggranellare dei soldi facendo teatro di strada. E così ho cominciato, diciamo. Mentre facevo l'incino, non mi sono solo iscritto. In realtà poi ho fatto il primo ottesame che mi sono arrivato ad anatomia e poi là ci sono entrati in accadena. L'hai lasciato proprio. Senti, io ovviamente non ho preparato una traccia perché non sono preparato proprio una traccia. Hai detto una cosa importante sugli atleti. Un attore è anche un atleta, no? Detto così è molto banale, è molto semplificato, no? È meno escluso. Però c'è quella dimissione dei propri limiti, superare i propri limiti e affrontare anche le difficoltà come il regista che si sarà pettito, diciamo. Ma ora la tecnologia si diceva provare, adesso si usa la parola training, per esempio, no? Nel senso che comunque c'è un allenamento che deve arrivare alle cose, c'è un tentativo di conoscenza del proprio corpo, dei propri limiti, delle proprie qualità, dico qualità in cui c'è, quali sono i tratti fondamentali della nostra espressività, come possiamo, diciamo, anche cercare altro, no? Aumentare un po' lo spettro di possibilità. E poi c'è questa cosa che... Io facevo atletica negli anni in cui, non so chi ha seguito l'atletica, c'era un grandissimo atletico che si chiamava Antibo, Toto Antibo, per cui il paletumitano, anche lui di Altofonte, c'era questo allenatore che si chiamava Gaspari Polizzi, tutti i paletumitani e i ragazzi volevano fare Mezzofondo perché, no, per il spirito di emulazione con fronte di Antibo. Eravano veramente tanti che, magari io vincevo le gare della mia scuola, il distretto, eh, però poi già alle comunali non ero che, pur di fare le praspette, invece di fare Mezzofondo, ho fatto salto in lungo e salto triplo. Non mi rialzo in piedi, ma potete capire il terzanismo ha fatto un salto triplo conuntissimo come il mio. però c'era un buco nella squadra, ma se non lo facevo, e quindi l'ho fatto io. E quindi là, ecco, nel mezzofondo c'è il discorso dell'allenamento, ma nel salto c'è qualche cosa che ha molto a fare con te, cioè questo provare la rincorsa, per esempio. C'è il momento in cui tu, diciamo, registri i passi, i riconti, vedi dove devi staccare, e poi c'è il volo, c'è il momento in cui la cosa la fai ed è senza protezione. Questo somiglia molto al rapporto che c'è tra preparazione di un personaggio, e poi in realtà il momento in cui sei sul set, soprattutto nel cinema è così. e quindi, quindi,